Doveva essere la partita della riscossa, è stata invece la partita della delusione e dell'amarezza per la Forti Sarizzo contro la Capresana. Ancora una volta la Forti se non ha approfittato del vantaggio e ha subito un'altra rimonta. La gara si sblocca nella ripresa a pregevole azione di Brunacci che verticalizza per Rosadini la cui possente conclusione termina alle spalle dell'incolpevole Faraglia. Al ventiduesimo della ripresa il pareggio della Capresana, Terzini incrocia dalla destra da oltre 30 metri, trova l'angolo opposto e insacca alle spalle del sorpreso Claudi. A quattro minuti dalla fine l'azione che dà il via alla vittoria della Capresana, una rimessa lunga dalla difesa, mette in movimento Terzini che viene atterrato da Braccalenti, fallo da ultimo uomo e conseguente espulsione. Sugli sviluppi della conseguente punizione battuta da Terzini, la palla finisce alla sinistra di Claudi, il più lesto di tutti è Matteagi che la deposita in rete. Vince la Capresana 2-1.